ciao amici welcome guys se perdete il vostro iphone o viene rubato e avete attivo prova il mio iphone il ladro in questione potrebbe abbassare il centro di controllo da telefono bloccato disattivare ogni segnale e perderete traccia del vostro iphone come possiamo fare per risolvere questo problema andiamo in impostazioni face id inseriamo il codice andiamo a disattivare centro di controllo perfetto torniamo indietro facciamo una prova adesso la standby se provate abbassare non si può abbassare quindi non può disattivare ogni segnale e il vostro trova il mio iphone rimarrà sempre attivo ciao ragazzi